Benvenuti, benvenuti a tutti le prime pagine dei giornali, la nostra rassegna stampa. Ora andiamo a vedere il mattino di Puglia e Basilicata, il Covid affonda la Vespucci e a scuola si tornerà solo con il Green Pass, c'è un focolaio sulla Vespucci appunto in doppia dose, non rende immune l'equipaggio, 20 contagiati.